Dibattito sulla vertenza Terme di Sciacca nella nuova puntata di Vespere, in onda a partire da oggi sulla nostra emittente. Ospiti in studio il Sindaco Fabio Termine, l'ex Sindaco Fabrizio Di Paola, la Presidente dell'Associazione Ora Basta Caterina Sant'Angelo e in rappresentanza del Comitato Civico Patrimonio Termale Franco Zammuto. Termine ha ribadito quanto già detto nei giorni scorsi, non escludendo che con Cassa, Depositi e Prestiti, dopo la cancellazione delle Terme di Sciacca del Cireale tra i progetti finanziabili con il bando di SGR e con i fondi del PNRR, si possa trovare un'altra soluzione, non disdegnando in prospettiva un possibile affidamento dei beni singolarmente. Cassa, Depositi e Prestiti poteva benissimo anche decidere di investire sullo stabilimento, sull'hotel, sul parco e sulle piscine per esempio, che era un comprensorio con beni tutti funzionalmente collegati, poteva anche decidere di farlo e poi spettava alla Regione decidere se insieme chiaramente a tutti gli attori, compreso il Comune di Sciacca… Se così fosse stato lei avrebbe detto sì o no? Ma sicuramente era una cosa interessante da valutare. Per modi. Fabrizio Di Paola, che otto anni fa da sindaco subì la decisione della Regione proprietaria di chiudere tutto, ha auspicato l'intervento del governo Schifani di recupero degli impianti che la chiusura ha definitivamente compromesso. E io vorrei invitare il sindaco a dire al Presidente Schifani e all'assessore Falcone come prima cosa, prima di guardare il carteggio, di venire a Sciacca, di venire a Sciacca e di venire a vedere… il Presidente, quello con cui io mi confrontai al tempo, non è mai venuto a Sciacca a guardare le terme, non le ha mai viste, non le ha mai viste. Quella dirigente che allora a noi in assemblea dei soci e deliberò quella chiusura, nonostante conosca Sciacca, secondo me le terme di Sciacca non le conosce. Le parti civiche hanno confermato ciascuna per la propria parte un ruolo di attenzione di Pungolo per addivenire ad una soluzione, per far tornare a funzionare le terme in un ambito sociale, quello di Sciacca che nei confronti di questa straordinaria storia continua ad apparire piuttosto indifferente. Iniziare per esempio a dire affidiamo il bar con il parco, con la villa, riattiamo un attimino, rimettiamolo in movimento il Grand Hotel delle Terme, magari per fare, che so, convegni, riunioni, conferenze e cose, rimettere in funzione tutto ciò che è fattibile. Con Fabrizio e anche con Caterina in tante occasioni siamo stati a Palermo, io è dal 2014 che seguo tutte le vicende anche a Palermo, non c'è speranza, non hanno la minima idea di cosa vuol dire sviluppo, parlare di economia, parlare di lavoro, parlare di quello che serve per quanto riguarda le terme di Sciacca, le terme di Sciacca. Non capiscono che questo può essere la nostra ricchezza. È chiaro che se tu sei proprietario di un immobile non te ne puoi dimenticare, per anni la regione se ne è dimenticata. Io per esempio ero uno tra quelli che ero contrario ai mini bandi, oggi con senno di poi dico che forse sarebbe stato meglio intraprenderla quella strada perché oggi avremmo un patrimonio vivo che non avrebbe bisogno di tutti questi investimenti perché io credo che buona parte delle risorse che servono per questo investimento stanno proprio nella riqualificazione.